Shalom, Shalom, Shalom Eccoci qui con un'altra lezione E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahawa Bahashem Yahawashai Bahashem Burukah Kudash Che Yahawa è il vero nome del Padre nel antico ebraico Yahawashai è il vero nome di suo figlio Colui che in mondo dall'ignoranza chiama Gesù E lo Spirito Santo è la Rukah Kudash Doppio onore agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS Per avermi insegnato questa verità che è la pura verità Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala Che sono sparsi nei quattro punti della terra Faccio questa lezione per quello che ho visto Ho visto Che hanno creato questa nuova versione della Bibbia Che si chiama la Queen James Bible Che vuol dire la regina Giacomo La Bibbia della regina Giacomo Che la Bibbia originale è il re Giacomo Ed è stato pubblicato Mi sa il primo è stato pubblicato nel 1611 1611 Ed è la versione che ho io E come vedete Come vedete hanno fatto una nuova Per gli omosessuali Togliendo via tutte le parti Che la Bibbia Le parole del Padre Yahweh critica l'omosessualità E questo Dico Se voi non state vedendo La perversione di questo regno Se non state vedendo Che questo regno È bello Maturo Per la distruzione Allora c'è un problema con voi Vuol dire che anche voi Fate parte Di coloro che devono essere distrutti Ok Perché Queste sono cose Queste sono cose Abominevoli Intanto andiamo a vedere Cosa dice il libro Di rivelazione Libro di rivelazione Apocalisse Rivelazione Apocalisse Capitolo 22 E si trova Nel versetto 19 E se qualcuno Toglierà Dalla parola Dalle parole Del libro Di questa profezia Yahweh toglierà La sua parte Del libro Della vita Dalla città santa E dalle cose Che sono scritte In questo libro Ok E loro Per portare avanti La loro agenda Demonico L'agenda blasfemo Hanno creato Una nuova Bibbia Ok Togliendo Delle parole Del padre Che il padre Come sapete C'è la regola Che un uomo E un altro uomo Non possono dormire insieme Né una donna Con un'altra donna O l'uomo O l'uomo con una bestia Ma questo è lo stato Si occupano Si occupano A fare queste cose Qui Ma non si occupano Ad aiutare Il mondo Come dovrebbero aiutare Il mondo E liberarla Dalla povertà Questo è Perciò Ripeto di nuovo Se voi Se voi non state Vedendo queste cose Vuol dire Che ci sono Problemi grossi Con voi Leggiamo di nuovo Libro di Leggiamo il libro Secondo corinzi Secondo corinzi Undici E si trova In versetto Quattordici E non c'è Da meravigliarsi Perché Satana stesso Si trasforma In un angelo Di luce Ok Perciò Non è gran cosa Che anche I suoi ministri Si trasformano In ministri Di giustizia La cui fine Sarà secondo Le loro opere Oh mamma Dovete aprire Gli occhi E svegliarvi Ok Come vedete Anche Satana stesso Si trasforma In un angelo Di luce Perciò Non è gran cosa Se anche I suoi ministri Si trasformano In ministri Di giustizia I ministri Di questo mondo Sono i ministri Di Satana Hanno fatto Fintanto La legge Che tu Non potresti Dire Nulla Contro Questa gente Qui Si chiama L'omofobia Ok E lo stanno Spingendo Di brutto Lo stanno Spingendo E appoggiando Di brutto Stanno facendo Nuove regole In tante Parte Del mondo Soprattutto In Babilonia America Hanno Hanno anche Passato La legge Per farli Sposarsi Per farli Sposare Nelle chiese E tu Che non Li sposi Nelle chiese Tu che non Li sposi Nella chiesa Vai contro La loro Legge Rischi La galera Ok C'è un'altra cosa Che vi faccio vedere Se voi Non sapete C'è Questa Donna Della MMA Che Combatte Nella MMA Ok Vediamo Se Lei È Una Transgender Ok Ecco La sua Foto La sua Immagine Questa Era Un uomo E Ha fatto Le cose Per diventare Donna Ma sapete Cosa è Lei Ha Spaccato Cranio Già A due Femmine Ma che Mondo È questo Lei È nata Uomo Si è Trasformata Donna Ma è Sempre Uomo E va A combattere Contro Altre Donne E tutti Vanno Ma Che Mondo Stiamo Vivendo Che Mondo Stiamo Vivendo Vediamo Cosa C'è Qui Qui Sei Qui 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 Sì! 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 Vì! Sì! e come vedete eccola la lei ah anzi leggiamo qui ha combattuto molte donne e non ha mai sentito la forza che ho provato in un combattimento come quella notte non posso rispondere se è perché è nata uomo o no perché non sono un medico posso solo dire che non mi sono mai sentita così sopraffatta in vita mia e sono una donna anormalmente forte di per sé non sono ancora d'accordo con i combattimenti della fox qualsiasi altro lavoro carriera dico di provarci ma quando si tratta di uno sport da combattimento penso che non sia giusto lei ha spaccato cranio a due combattenti femmine vedete la fox lo spinge il mondo lo spinge ed è questa è la normalità che vogliono ok e ricordatevi una lezione che ho fatto in passato in passato guai a coloro guai a coloro che chiamano i bene per male e male per bene che si trova nel libro di isaia andiamo a vedere questo è isaia 5 20 guai a coloro che chiamano i male buono e bene cattivo che ha messo le tenebre per la luce la luce per le tenebre che ha messo amaro per dolce e dolce per amaro cari fratelli e le poche sorelle svegliatevi stiamo facendo peggio della sodoma e gomora c'è anche un vezzetto che che dice questo stiamo facendo peggio della sodoma e gomora e la distruzione è alle porte il padre è giustificato questo mondo è maturo per la distruzione è impossibile che chiudiamo gli occhi e andiamo avanti a vedere queste cose qui detto questo spero siete stati edificati e lascio tutto questo nel sacro nome del padre di hawa e nel nome di suo figlio di hawa shai il nostro salvatore e rendentore miei doppi onori agli apostoli e anziani della great new stone gms pace e saluti alla casa di yasharala ai eletti della casa di yasharala alla prossima shalom e saluti alla prossima shalom